Carissime colleghe, carissimi colleghi, come a voi già noto, il 23 novembre la nostra Onlus ha organizzato un grande evento, il concerto del grande maestro Ezio Bosso nella grande cornice del Petruzzelli. L'evento ha uno scopo solidaristico e di beneficenza perché i ricavati andranno al progetto Musica Lex, che ha l'obiettivo di donare gli strumenti musicali agli studenti non economicamente abbienti, proprio per iniziarli e incentivarli alla musica che, come sappiamo, è un momento importante per la crescita della personalità. Vi invito pertanto a partecipare numerosi all'iniziativa onde sostenere il progetto Musica Lex. I colleghi hanno già manifestato grande sensibilità nei confronti di questo nostro evento della Onlus. Li invitiamo, li esortiamo, insomma, a recarsi presso la sede della nostra Onlus per dare l'adessione all'evento. Anche la cittadinanza barese sta mostrando il suo gradimento anche per l'evento organizzato dalla nostra Onlus e soprattutto per i fini, appunto, benefici che sono sottesi a questo evento. Dalla cittadinanza barese abbiamo ottenuto, insomma, un grande applauso per questo evento.